Sono Teresa De Domenico, responsabile della qualità dei servizi di stazioni ferroviarie in Sicilia. Siamo impegnati molto per ricercare questi locali che veramente devono essere un aiuto alle persone che vivono ai margini della società e che hanno questa permanenza di stazione per creare un processo di reinserimento sociale. Finalmente abbiamo trovato dei locali veramente adatti, nel senso non ci sono barriere architettoniche, sono vicini alla stazione, sono andata in un ingresso autonomo e siamo orgogliosi di avere la stazione di Messina, questo centro di urlo, il center, che rientra nel progetto e nel cuore di fuoristazione, quindi promosso e nel cuore ONLUS per ovvie delle stati italiane.